In serie di progettazione di edifici nuovi consente la valutazione dell'impatto di soluzioni per l'incremento del potere fonoisolante, ad esempio tramite l'inserimento di uno strato di materiale fibroso o poroso all'interno dell'intercapendide di una parete doppia, ovvero costituita da due tavolati. Quindi, modificata opportunamente la stratigrafia, il solter fornirà quindi il valore aggiornato del potere fonoisolante. Nell'ambito di edifici esistenti, invece, consente di valutare soluzioni che permettano di incrementare la protezione acustica degli ambienti tramite l'adozione di opportuni controplacaggi, ovvero contropareti o controsofflitti. Quindi, creando innanzitutto opportunamente la struttura di protezione, come nel caso del contropalacaggio applicato ad una parete, si procederà quindi all'aggiornamento della valutazione acustica, al quale, al valore della parete base, verrà aggiunto il contributo degli strati aggiuntivi. Per le strutture orizzontali, quindi solai e pavimenti interpiano, sarà quindi possibile valutare il comportamento della stratigrafia in assenza di particolari materiali con funzione anticalpestio, oppure provvedere alla configurazione della struttura stessa in termini di pavimento galleggiante con quindi l'interposizione di uno strato di materiale resiliente tra il massetto e la soletta del solaio stesso. A questo punto procederemo all'aggiornamento del calcolo e quindi il software provvederà anche ad valutare il decremento di livello di calpestio normalizzato garantito dalla presenza del materiale anticalpestio.